Sarà presentato in anteprima nazionale al cinema Apollo di Ferrara giovedì 10 ottobre Oltre la bufera, la pellicola ambientata nell'argentano e girata nel ferrarese lo scorso anno, che narra la vita di Don Giovanni Minzoni interpretato dal ferrarese Stefano Muroni. Don Giovanni Minzoni è stato il primo grande no del Novecento, un uomo che disse di no ad un determinato sistema consapevole che sarebbe stato ucciso. Qualche giorno prima di essere ucciso scrisse in una lettera tendo alla bufera, ecco perché il film si chiama Oltre la bufera. Oggi è importante dire di no, no alla violenza, no all'anticoltura, no alle minacce, no alla diseducazione. Quindi un uomo che ancora oggi ci parla nonostante sia morto 96 anni fa. Saremo a novembre al Festival di Casablanca in Marocco, è uno dei cinque film selezionati italiani che andrà in Marocco. Saremo anche in Messico, saremo in una rassegna cinematografica molto importante all'Ambasciata di Berlino, ma saremo anche in molte città italiane, da Bologna a Cagliari a Catania, Torino a Milano a Teramo, Pescara. Quindi da qui a tre o quattro mesi siamo già pieni, però era per me un dovere morale e anche una responsabilità iniziare dalla mia città che è Ferrara ed è poi la provincia in cui poi Don Giovanni venne ucciso la notte del 23 agosto del 1923. È un'occasione importante perché la produzione, ma anche i luoghi in cui il film è stato girato, appartengono al nostro territorio. Stefano Muroni, un attore e produttore insieme a Valeria Luzzi, sono di Ferrara e conoscono molto bene il nostro territorio, che non è solo Ferrara, che si estende fino soprattutto al mare. È solo l'inizio perché ovviamente già in ottobre avremo una serie di eventi legati al cinema e al nostro territorio che non riguardano solo le produzioni ovviamente di lungometraggio, ma che hanno attenzione anche sui nostri documentaristi, che sono poi quelli che hanno tramandato il linguaggio cinematografico con grandissima passione e attenzione proprio sul territorio di Ferrara. All'anteprima di giovedì sera alle 21.30 in sala per incontrare il pubblico ci sarà anche il regista Marco Cassini, tra i cineasti emergenti più apprezzati del panorama italiano. Dopo l'anteprima di giovedì il film sarà in sala lunedì 14, martedì 15, giovedì 16 ottobre. Chiaramente motivo sempre di grandissimo orgoglio, grandissima soddisfazione poter collaborare con produzioni di questo livello, soprattutto produzioni del territorio, soprattutto produzioni in collaborazione con l'amministrazione comunale, con chi come Stefano Muroni ha voglia di mettersi in gioco facendo parlare la nostra provincia, il nostro bellissimo territorio. Il cinema Apollo è sempre a disposizione di questo tipo di iniziative perché vuole essere comunque una porta aperta sulla città, che è un punto di riferimento culturale per tutto ciò che può incrementare il valore e la cultura del nostro territorio ferrarese. È stato girato tutto sul nostro territorio, da Mesola a Porto Maggiore, a San Bartolomeo in Bosco, alla Pieve di San Vito di Ostellato a Ferrara, e poi perché l'intero territorio ci ha creduto anche economicamente, i comuni, le banche, gli istituti di storia contemporanea, i Lions, i Rotary, le cooperative privati, un intero territorio ferrarese e in parte anche dell'Emilia Romagna, come l'Emilia Romagna Film Commission o la Conf Cooperativa Emilia Romagna, hanno creduto a quest'opera. Quindi mi piace pensare che l'intero territorio si sia messo assieme per creare arte cinematografica. Quindi non è il film di Stefano Muroni o di Marco Cassino o di Valeria Ruzzi, ma è il film del territorio e della vittoria di un intero territorio.